E noi tra pochissimo avremo in collegamento un medico missionario perché non solo ci sono statue, ci sono chiese dedicate a Padre Pio da Pietrelcina ma adesso c'è anche notizia di un pozzo a lui dedicato in costa d'Avorio quindi il dottore Vincenzo Mallamaci tra qualche istante ci racconterà di questa iniziativa peraltro è anche in arrivo qui a San Giovanni Rotondo quindi con tutta probabilità lo troverete anche per quel che riguarda questo momento così affascinante di ritorno potremmo dire alle fonti anche del suo lavoro e della sua associazione che si chiama Etiporto in Africa proprio anche in altre trasmissioni. Credo che siamo già collegati col dottore Buongiorno, ben trovato Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i carissimi teleascoltatori Dunque l'Arcivescovo l'ha invitata, domani sarete qua, parteciperete alla celebrazione eucaristica credo delle 11.30 ma intanto ci racconti tutto questa iniziativa così bella in costa d'Avorio, in che città in particolare e questo pozzo quante persone sta dissetando? Innanzitutto vi ringrazio per l'interesse che avete nei riguardi della nostra associazione sono 35 anni che io faccio Africa con grande gioia il pozzo Padre Pio, noi abbiamo costruito circa 500 pozzi in tutto il centro Africa il pozzo in onore di Padre Pio nasce da un desiderio un desiderio che era quello di poter portare un messaggio in queste zone dove io avevo spesso visto le immagini di Padre Pio, la statuetta di Padre Pio nei villaggi più sperduti, più remoti ed era grande gioia per me rivedere il nostro santo dei miracoli il nostro grande santo in quei territori soprattutto perché la maggior parte erano degli animisti che si erano convertiti alla religione cristiana cattolica e quindi vedevo in questi villaggetti dove non c'era niente però magari in un angolino trovavo la statuetta di Padre Pio che loro veneravano e allora abbiamo voluto dare un senso forte anche per quello che era il messaggio di Padre Pio la vicinanza concreta alle persone povere accarezzare con mano le persone sofferenti e quindi ci è sembrato giusto in questo viaggio dove abbiamo inaugurato altri due pozzi uno all'ambasciatore Luca Attanasio e un altro in un'altra regione dedicare uno di questi pozzi proprio a Padre Pio in modo che tutti i bambini che vanno lì a dissetarsi tutte le persone che praticamente andranno lì per ricevere la vita da quest'acqua che loro non avevano possano in quel momento pensare proprio al santo dei miracoli al nostro grande santo è stato un gesto di devozione ma soprattutto di amore concreto verso un messaggio meraviglioso che Padre Pio ha lasciato il pozzo che abbiamo inaugurato a Padre Pio è un pozzo che praticamente porterà da bere a dieci villaggi che non è poco considerate che i bambini fanno chilometri al giorno con le tanniche sulla testa per andare a prendere l'acqua in villaggi lontanissimi adesso avranno la loro acqua a poca distanza e tutto questo ogni volta che andranno a riempire le tanniche di quest'acqua viva, potabile che permetterà loro la salute perché molte volte bevono acque di pozzanghere quindi si ammalano anche con delle gastroenterite mortali per i poveri perché i poveri non hanno possibilità di curarsi sono abbandonati a se stessi noi andiamo, portiamo farmaci abbiamo realizzato 20 centri medici con sale parto e seguiamo dall'Italia queste persone andando a questo pozzo troveranno questa immagine del padre Cappuccino che li benedice e si ricorderanno di Padre Pio nel modo più bello nell'erogazione della vita nell'erogazione della vita e quindi della grazia che attraverso l'acqua che scaturisce da quel pozzo dedicato a lui loro potranno avere finalmente la possibilità di dissetarsi in un modo dignitoso da esseri umani come è un loro diritto avere perché sono creature di Dio anche quelle che purtroppo non hanno deciso di crescere o vivere in quelle condizioni ma molte volte siamo noi che li teniamo in quelle condizioni per arricchire i nostri granai togliendo loro la cosa più bella le bellezze del loro sottosuolo la libertà di esseri umani ecco noi lottiamo contro questo ecco abbiamo solo un minuto ma volevo rimandare naturalmente i nostri telespettatori per tante altre notizie approfondimenti al sito etiportoinafrica.it abbiamo già visto tantissime belle immagini però prima di lasciarla ci terrei anche a chiederle Padre Pio che cosa le ha insegnato in tutti questi anni? Ma Padre Pio mi ha insegnato la cosa più bella l'umiltà del donare molte volte nel silenzio ma con coraggio perché noi andiamo in zone molto pericolose però non abbiamo paura come non aveva paura lui di accarezzare la gente come lui non aveva paura di subire anche delle angherie perché come ben sappiamo purtroppo nella sua vita non era stato compreso per quello che veramente era in realtà e quindi è una gioia poter parlare di Padre Pio in Africa parlare di Padre Pio a questi bambini perché sicuramente diamo un messaggio d'amore che non è un messaggio solo scritto ma è un messaggio vissuto da questo grande uomo dedito a Dio che giustamente ha lasciato una traccia di santità indelebile nel cuore di tutti noi grazie dunque al dottor Vincenzo Mallamaci abbiamo ultimato questa diretta ma vi preannuncio che c'è una sorpresa restate con noi perché adesso faremo un'altra diretta perché il collega come vi aveva anticipato con effetti speciali e con la sua lunga falcata è già arrivato al centro di San Giovanni Rotondo e lo ritroveremo tra pochissimo grazie a tutti